L'energia della musica è al servizio della ricerca. Domenica 21 ottobre alle 17.30 alla Chiesa della Badia di Arezzo torna il tradizionale appuntamento della Fondazione Andrea Cesalpino, giunto quest'anno alla sua dodicesima edizione. La Fondazione Cesalpino è dedica alla ricerca e alla prevenzione e quindi interviene ormai da tantissimi anni all'interno del territorio per promuovere borse di studio, stili nuovi di vita e ormai da decenni utilizza il concerto e quindi un evento culturale per diffondere non solo la conoscenza della Fondazione ma anche proprio i contenuti di questa ricerca perché gli aretini possano conoscere chi sono i loro giovani ricercatori e soprattutto quali sono gli stili di vita che devono cambiare per vivere di più e a lungo. UbiBank è molto attenta a quello che succede in città e gli eventi che fondamentalmente possono contribuire a dare un valore veramente aggiunto al territorio e al contesto di riferimento. Protagonisti della serata, interpreti di rilievo internazionale, tra loro anche il maestro Roberto Fabriciani. È un grande piacere perché Arezzo è la mia città, io amo la mia città e ogni volta che ritorno veramente vivo una grande emozione. Si andrà dalla bellezza di Mozart al virtuosismo di Adam Roussel, al tardo romanticismo con il quartetto Langsamersatz di Webern e alcune musiche mie recenti che ho tratto da colonna sonora di un film.